Cinquantennale della provincia di Sernia, un libro per lasciare nel ricordo di quei giorni la traccia di documenti e fotografie e quello scritto a quattro mani da Giovanni Pette ed Enrico Santoro raccogliendo i discorsi e le istantanee che ripercorrono i momenti più importanti della battaglia popolare ed ideale combattuta per ottenere la seconda provincia del Molise. Io ho fatto la prefazione, l'ho letto con molta curiosità perché è davvero un libro, nel senso c'è una parte storica per ricordare il momento del cinquantenario della provincia di Sernia ma c'è soprattutto altri discorsi dove Enrico Santoro ha voluto richiamare un po' tutta la comunità al confronto con l'obiettivo di avere una visione per i dieci anni, per i venti anni futuri in maniera da poter raggiungere un altro obiettivo come quello che il territorio ha raggiunto nel 1970, per cui è un libro che non si esaurisce nel suo aspetto storico ma vuole assolutamente il confronto con tutti, con i giornalisti, con i politici, con gli amministratori, con gli studenti. Santoro chiede il contributo di tutti per creare nuovi obiettivi da raggiungere nel futuro. Giorni e persone che saranno ricordati nei tempi per il loro contributo dato all'istituzione della provincia ma una parte importante, come ha sottolineato Santoro, l'ha avuta la gente, il popolo, con il suo entusiasmo e un confronto con la mancanza di motivazioni ideali a odierne è d'obbligo. Io avevo solo cinque anni ma questa cosa mi è servita molto per capire da dove vengo, le mie origini. Santoro mette in evidenza un termine, quello della comunità e del coinvolgimento, cioè secondo Santoro l'obiettivo della provincia è stato raggiunto perché c'è stato un movimento in tutte le categorie sociali del tempo, tutti sono stati coinvolti e questo è stato il motivo per cui è stato raggiunto questo obiettivo. Per cui l'entusiasmo, cosa che manca in questo momento e che in qualche modo bisognerà riproporre e ricreare. Ecco perché Santoro stimola i politici del momento ma anche noi giornalisti, anche gli scrittori, anche gli studenti.